... E' la zona del bort, che che abbiamo la zona di bort Il personaggio che è lì, il personaggio che è lì, è il personaggio dell'area di la mano Esa è è la clavarola, l'equipo qui è sul traete, l'equipo qui sul traete, l'equipo qui sul traete Personaggio del bort, la base del bort Si le barco del bort, passiamo da l'equipo, è la zona del bort E' questa perfetta Noi, per il tempo... ... e il tempo... ... e poi si può agastare. Non lo possiamo agastare ma se si può agastare il tempo, e questo lo basta con la prima persona che lo ha fatto. E poi... ... un, due, due ... un, due ... un, due ... un, due ... un! La base è raja. 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 la base è raja.